Il secondo raduno è Centri Alta Formazione Federale, qua c'è il meglio della categoria ragazzi e lievi in Italia, i ragazzi vanno dai 12 ai 15 anni, diciamo che abbiamo certo Terni perché sia una grande amministrazione, una grande squadra Terni che è riuscita anche ad ospitarci, anche perché c'è uno dei più grossi migliori del pazzinaggio a livello mondiale. Come si svolgerà lo stage? Lo stage è iniziato ieri, il primo pomeriggio, i ragazzi sono stati accolti in una struttura alberghiera vicino e abbiamo cominciato subito le sessioni di lavoro sia di preparazione fisica che di preparazione tecnica o specifica sul patinaggio, considerando che a fine stagione possiamo lavorare in un modo molto più tranquillo e calmo per dare le giuste indicazioni, io sotto la componente metodologica fisica e il commissario tecnico sotto la componente tecnica tattica e specifica del patinaggio. Questo è il sunto, abbiamo fatto una sessione ieri pomeriggio, una stamattina e nel prossimo giorno, nel prossimo 24 ore faremo altre sessioni di allenamento. C'è da dire che siamo stati bene ieri sera nella cascata delle marmone? Sì, oltre a fare anche attività specifica sul mezzo, facciamo anche un po' di attività ludica, ieri poi abbiamo fatto una piccola gira alla cascata delle marmone, i ragazzi sono entusiasti e torneremo a terri.